Ho amato fin da adolescente la metamorfosi, il meraviglioso racconto del commesso viaggiatore Gregor Samsa che un mattino, testandosi da sogni inquieti, si ritrova mutato in un insetto mostruoso. Conosco la camera da letto di Gregor come fosse la mia, ricordo la disposizione dei mobili, la distanza del letto dalla porta d'ingresso e sono affezionato alla foto della giovane donna in pelliccia che guarda da una parete come se l'avessi appesa io. Mi ci sono voluti trent'anni e non so quante riletture per accorgermi che quando Gregor, ormai insetto, si aggrappa la foto per impedire che venga staccata dal muro, lo fa per difendere la cornice di legno da lui costruita, non quel che ci sta dentro. Con la metamorfosi succede così, solo per gradi si arriva a coglierne la bellezza che sta nei confini tra le cose, non nelle cose stesse. Con il personaggio di Gregor Samsa l'immedesimazione è stata istintiva. Ho capito subito che cosa c'è di tragico nella sua metamorfosi. Essa è incompleta. Se Gregor fosse diventato un insetto fino in fondo non ne avrebbe coscienza. Invece fa le spese di una regressione parziale. Nel momento in cui si sveglia è un uomo che sa di essere un insetto. Ha perso inspiegabilmente la sua innocenza entomologica. È uscito dalla normalità, questa avvolgente poltrona in cui veniamo fatti accomodare tutti e che non abbandoniamo mai a meno di non esserne costretti. In un frammento o micro parabola dei suoi Franz Kafka ha scritto Prova a farti capire dal millepiedi. Il giorno che l'avrai posto di fronte alla questione dello scopo del suo lavoro avrai sterminato la razza dei millepiedi. Il millepiedi di Kafka è la creatura che il lavoro sordo sbrigato a testa bassa in una trance sonnambolica ha reso inattaccabile a qualunque discorso che non parli di lavoro. che non riconduca al lavoro. Se spiegassimo al millepiedi chi è, lui si vedrebbe dal di fuori. Ma l'essenza del millepiedi sta precisamente nella sua impenetrabilità. L'insetto kafkiano è qualunque animale umano incapace di immaginare e di desiderare un'alternativa alla propria condizione abituale. Forse Kafka ha voluto dirci che una presunzione di umanità basta a renderci insetti a nostra insaputa. Mentre l'umanità non sarebbe altro che la coscienza della vita da formichine indaffarate e frenetiche che conduciamo. Una coscienza che cade addosso, irreversibile, che ci fa correre a perdifiato e a vuoto lungo le pareti della nostra stanza, che ci spinge a cercare rifugio sotto un divano nella speranza di non dare nell'occhio. Perché siamo noi i primi a non volerci vedere, a odiare la scandalosa impossibilità di scendere dal letto, aprire la porta e andare al lavoro come ogni giorno, come ci si aspetta da noi. Ecco che cos'è l'umanità. La dolcezza di una musica di violino che proviene dalla stanza accanto e il dolore acerbo, ingiusto, di una ferita improvvisa che si apre in noi e da cui non si guarisce più.